E' stato un esordio aretino quello del bilancio di sostenibilità di Estra presentato nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo. Il bilancio di sostenibilità rappresenta il rendiconto degli effetti socioambientali delle attività svolte, quindi l'impatto complessivo dell'azienda sulla società civile dei territori di riferimento. Un'azienda come la nostra, di origine pubblica, non può che cimentarsi anche su un modo di rappresentarsi, assicurando anche la reputazione dell'azienda, spiegando quali sono i valori che mettiamo in campo a livello sociale e ambientale. Ormai sono indicatori di cui si deve tener conto anche per massimizzare i profitti. Per esempio per noi i clienti non sono solo clienti ma sono cittadini, quindi il rapporto con i portatori di interesse, che siano clienti, dipendenti, soci, deve essere l'insegna della trasparenza, del dialogo, della completezza, dell'inclusione. E sono strumenti moderni che ci garantisce questo strumento innovativo che è il bilancio di sostenibilità e che poi la cui evoluzione sarà il report integrato. Cioè dal 2017 per un obbligo di legge derivante dalla direttiva comunitaria dovremo non più fare il bilancio civilistico, quello che serve al finanziatore e all'azionista, ma un bilancio integrato da un'operazione trasparenza. E questa in sostanza è che mette a nudo un po' la società, che fa emergere anche le criticità. Il prossimo passo per Estra resta quello della quotazione in borsa. Manca il via libera del Consiglio Comunale di Arezzo, mi risulta che gli uffici stiano lavorando alla cremente e credo che entro novembre arriveranno i risultati. Poi tenteremo questa nuova avventura in borsa per dare più solidità economica ma non perdendo di vista l'origine pubblica di questa grande azienda che è un patrimonio del territorio.